Sul campo la partita di calcio è terminata 1-1 ma inevitabilmente fa notizia soprattutto quello che è accaduto dopo il match tra Cuomo e Bari, gara valida per la 14esima giornata di Serie B. Le immagini sono eloquenti, bastonate con le bandiere, calce e pugni, insomma uno scontro fisico molto duro tra le tifoserie delle due squadre. Le immagini dei video amatoriali stanno facendo il giro del web e sono anche al vaglio delle forze dell'ordine. L'ipotesi più plausibile, secondo la questura lombarda, è che circa una cinquantina di tifosi baresi sarebbero stati provocati e poi aggrediti dai tifosi di casa a pochi metri dallo stadio Senigallia. Traffico completamente bloccato per circa un'ora, dando vita poi alla risse e agli scontri. La situazione è tornata alla normalità, fatica, grazie anche all'intervento delle forze dell'ordine che ora indagano sull'accaduto. Tra le due tifoserie non c'erano particolari precedenti per un incrocio che mancava da ben sette anni e la gara non era considerata a rischio. Di certo il grave episodio non rimarrà senza conseguenze.